bisogna ammetterlo la roma dopo il famoso scudetto vinto nel 2001 che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi ha faticato a trovare la strada che avrebbe potuto continuare a farla vincere infatti successi sul campo a parte alcuni exploadeni di nota come per citarne due la semifinale di champions nel 2018 il quasi scudetto del 2010 si limitano alla conquista di pochi trofei ovvero una supercoppa italiana e due coppe italia insomma pochi successi per la società giallorossa che hanno sicuramente deluso una piazza complicata e pretenziosa i tifosi infatti sono semplicemente passati dalle contestazioni alla vecchia proprietà dei sensi a quella nuova di pallotta già perché nessuna di queste due è riuscita nell'intento di portare la roma ai massimi livelli i direttori sportivi come baldini sabatini e l'odiato monci c'è da dire che non hanno dato il loro meglio soprattutto quando si è trattato di individuare il giocatore giusto il giocatore che avrebbe potuto portare la squadra a fare il salto di qualità con questo non voglio dire che loro lavoro sia stato completamente da bocciare perché ovviamente qualche ottimo acquisto c'è stato come per esempio quello di cassano manolassa allison e sala ma noi come sempre andiamo ad individuare invece quei giocatori nei quali società i tifosi avevano riposto la loro fiducia affinché riportassero alla roma a vincere qualcosa e che invece hanno deluso pesantemente le aspettative come abbiamo ormai capito nessuna squadra esente da commettere questo tipo di errori e i giocatori sono tanti da elencare è quasi impossibile ricordarli tutti andiamo in ordine cronologico dagli anni 2000 fino ad arrivare ai nostri giorni stagione 2004 2005 la roma era molto vicino all'acquisto di un certo ibrahimovic giocatore dell'ajax la juventus invece stava per concludere il trasferimento di mido attaccante egiziano del marsiglia che aveva giocato proprio con zlatan in olanda formando una coppia formidabile lo stesso giocatore dichiarerà che era tutto fatto ma il destino e soprattutto moggi e rayola cambiarono le carta in gioco ibrahimovic infatti finirà la juventus e mido alla roma per 6 milioni di euro in olanda nonostante le buone prestazioni quest'ultimo era ricordato per le gare clandestine con lo svedese le notti passate al night proprio con ibra formava una coppia incredibile dentro e fuori dal campo una coppia che però scoppiò presto perché dopo una sconfitta mido confrontandosi proprio con il suo compagno di serate in preda alla rabbia prova a scagliargli addosso un paio di forbici zlatan in recenti interviste dichiarò mido stava per uccidermi l'ex attaccante egiziano ancora oggi se gli domandano spiegazioni risponde così beh a roma c'è da dire che non c'è stato nessun tentativo di omicidio ma metti la nostalgia di caso la poca dedizione agli allenamenti conclude l'annata con 13 presenze e zero reti da lì continua il declino della sua carriera da giocatore solo negli ultimi anni è tornato a far parlare di sé per essersi rimesso in forma dopo aver raggiunto i 150 chili riportando a galla ricordi non piacevoli per i tifosi giallorossi annata 2008 2009 arriva dal real madrid giulio batista attaccante che non aveva convinto le merengues arriva per circa 10 milioni di euro e conferma la sua fama parte bene anzi benissimo ma finisce sempre male anzi malissimo la sua storia insegna che dopo un buon periodo iniziale si perde completamente è discontinuo e infatti dopo una prima stagione da 12 reti completa la seconda con 32 presenze e 4 marcature per poi essere ceduto nell'annata successiva a roma ancora oggi si chiedono cosa gli sia caduto nella stagione 2011 2012 la società giallorossa dal meglio di sé arriva sulla panchina luis enrique che non si rende conto che in italia non è il caso di replicare il gioco del barcellona soprattutto se non hai certi interpreti infatti proprio per le sue esigenze viene acquistato bojan per 12 milioni di euro arriva con una formula che prevedeva il riscatto del barcellona a fine stagione se la roma non avesse optato per acquistarlo ad un totale di 40 milioni di euro colui che doveva sostituire messi arriva nella capitale con grandi aspettative anzi troppe già perché il giocatore non reggerà questa pressione contando anche la difficoltà della squadra lo stesso dichiarò alla roma volevano il nuovo messi e questo non mi ha aiutato da lì infatti si perde completamente dopo un prestito al milan cambia diverse squadre giocando poco nello stesso anno arriva jose angel dalla liga per 4,5 milioni di euro terzino sinistro che doveva prendere parte all'azione offensive stile barcellona che luiz enrique voleva replicare rimane una stagione con 31 presenze e una miriade di prestazioni negative probabilmente troppo intento a giocare alla playstation con vestiti di dubbia classe come da lui mostrato su twitter viene ceduto quindi a fine anno stessa annata viene acquistato stekelenburg per 7 milioni di euro portiere olandese la sua prima stagione non fu molto emozionante con 45 gol subiti in 33 presenze ma i numeri non sono tutto e infatti è giusto ricordare anche la sua insicurezza e lentezza tra i pali dopo il primo anno da titolare arriva zeman in panchina e gli preferisce un altro flop degno di nota goicocea per i tifosi indubbiamente altri brutti ricordi menzione degna di nota per simon care sabatini conoscendolo a palermo lo porta a roma in prestito dove in 24 presenze convincerà lo stesso direttore a non riscattarlo l'annata successiva le cose non vanno molto meglio con l'arrivo di giocatori del calibro di junior tallo bradley e dodo stagione 2013 2014 invece pochi errori e a basso costo come quello di bastos arrivato in prestito per rinforzare la fascia sinistra in sei mesi dimostra tutto quello che non dovrebbe fare un terzino sinistro e non viene ovviamente confermato la stagione 2014 2015 invece va molto peggio già perché i flop degni di nota sono parecchi il primo salì ucciana arriva con un prestito biennale centrocampista offensivo dal costo di circa 5 milioni di euro finisce il primo anno con quattro presenze totali tutti sono convinti che verrà richiesta l'interruzione del prestito e invece sabatini decide di tenerlo decisione apparentemente senza motivo probabilmente si era dimenticato di lui dato che rimane per tutta la seconda stagione sempre seduto tra panchina e tribuna terminando due anni fantastici con dieci presenze totali stesso anno la roma prende da svincolato ashley cole il giocatore aveva diverse offerte interessanti ma viene convinto dai giallorossi per la felicità della piazza doveva essere una pedina importante per il reparto difensivo data l'esperienza internazionale beh non sarà così complice alla carriera quasi giunta al termine chiude la stagione alle spalle di olebas nelle gerarchie di rudy garcia e il secondo anno viene persino messo fuori rosa giusto per citarlo altro terzino a basso costo rientrante in questa categoria è manuelson arriva gratis dal milan in sei mesi e scende in campo solamente due volte altro dubbio fenomeno arrivato quella stagione è d'ombia bomber del cska approda roma gennaio per 14,4 milioni di euro esordisce prima della presentazione ufficiale il 15 febbraio e dopo una prestazione in colore al momento della sostituzione viene fischiato pesantemente il giorno successivo viene presentato dalla società e annuncia trasformerò i fischi in applausi sabatini chiede di lasciare stare il giocatore invitando tutti a riparlarne dopo un mese da quel momento 14 presenze due reti con il dirigente romano che lo spedisce via dopo neanche sei mesi si racconta che in allenamento fosse un fenomeno che stupiva tutti gli addetti ai lavori mentre una volta che metteva il piede allo stadio spariva come un fantasma che siano stati fischi dei tifosi ad averlo scoraggiato non credo prima di parlare del grande colpo di sabatini arriva in prestito dal cagliari i barbo che non è che ai sardi insomma avesse fatto grandi cose ed infatti non le fa neanche a roma complice anche un infortunio scende in campo solo 11 volte non convincendo mai qualcuno non ha ancora capito se fosse un centrocampista un attaccante ma arriviamo al migliore si fa per dire colpo di quella sessione di calcio mercato ovvero i turbe molti lo inseriscono tra i peggiori colpi del millennium altri solo tra i peggiori di sabatini in ogni caso c'è da dire che a roma non lo ricordano con gioia nel momento del suo arrivo le aspettative erano altissime perché il giocatore promesso alla juventus era stato praticamente rubato a marotta che stava per completare l'affare si dice che il suo mancato arrivo fu uno dei motivi dell'addio di conte alcuni siti titolavano il fumo della juve il capolavoro di un agente silenzioso praticamente i bianconeri dopo aver temporeggiato troppo si erano fatti sfuggire l'esterno volato a roma per 24 milioni e mezzo diventerà in quel momento l'acquisto più oneroso della storia del club i tifosi sono stracontenti dell'arrivo perché hanno vinto il derby di mercato con i rivali ma lo saranno purtroppo per poco del giocatore che aveva fatto bene a verona infatti nessuna traccia sembrava completamente perso anzi sembrava aver perso il talento mostrato poco prima dopo un primo anno al di sotto delle aspettative sabatini però vuole assolutamente che rimanga confida in lui e soprattutto spera in qualche miracolo che gli confermi che ha scelto il giocatore giusto dopo sei mesi e tentativi falliti di inserirlo in partita anche il dirigente gialloroso si convince a mandarlo in prestito in inghilterra torna a roma dopo sei mesi in colori in premier e passa altri sei mesi nella capitale guadagnando pochi minuti in campionato da lì al torino in prestito e poi per disperazione ceduto al club tijuana per circa 5 milioni di euro a piccola nota margine non farà benissimo neanche lì dire che abbia avuto una carriera magica veramente riduttivo nelle due stagioni successive è giusto citare il mitico joan jesus e zucanovic il primo giocherà anche parecchie partite non convincendo minimamente la tifoseria lo scorso anno è diventata quasi famosa la sua terribile partita contro il genoa dove ha dimostrato tutti i suoi limiti ma almeno non è costato tanto quanto bruno peresca arriva il 16 agosto 2016 in prestito dal torino con obbligo di riscatto a 12 milioni e mezzo ai granata sembrava un fenomeno molti erano convinti fosse il nuovo maicon palletti lo accoglie con entusiasmo dichiarando che è stato acquistato un grande giocatore peccato che nella difesa 4 non si trova minimamente viene schierato come terzino sinistro dove dimostra tutte le sue lacune difensive provano a inserirlo in tutti i modi per valorizzare l'acquisto ma lui è il fantasma di se stesso del giocatore dominante visto a torino neanche l'ombra e dopo due anni di delusioni viene mandato in prestito con diritto di riscatto al san paolo squadra brasiliana ora passiamo alle ultime due stagioni dove l'arrivo del ds monci non ha migliorato la situazione ovvero per quanto riguarda le plus valenze e il risanamento della società probabilmente sì ma per quanto riguarda l'acquisto e la cessione di giocatori sono stati fatti errori di una certa importanza infatti nella sua prima sessione di calcio mercato acquista defrel con prestito a 5 milioni obbligo di riscatto fissato a 15 una cifra abbastanza elevata e non ripagata sul campo dato che non riesce a ritagliarsi spazio con solo 20 presenze e una rete dopo solo una stagione viene mandato in prestito la samp e quest'anno ancora in cerca di destinazione situazione simile per chic l'allora ex attaccante della samp arriva con la formula del prestito di 5 milioni con obbligo di riscatto a 9 più 8 di bonus e il riconoscimento di altri 20 milioni nel caso in cui il giocatore sia ancora tesserato a febbraio 2020 portando quindi il costo del cartellino a circa 42 milioni di euro ed è sicuramente per questo che quest'anno verrà ceduto e diventerà a tutti gli effetti uno dei più grandi flop mai acquistati dalla roma già perché la storia ormai la sapete tutti il classe 96 nell'agosto 2017 viene praticamente acquistato dalla juventus insomma arriva al j medical e foto di rito per assistere ad un dietro front pazzesco dei bianconeri che fecero saltare l'accordo a causa di un problema al cuore rilevato dai medici si trattava semplicemente di un'infiammazione ma tanto bastò per compromettere l'operazione lo stesso giocatore disse che prese la decisione di non andare a torino ad effettuare altri test perché ormai alla juventus non importava più niente di lui da lì ovviamente l'inserimento di monci che chiude in tempi brevi il trasferimento portandolo alla roma il suo talento però non esplode perché in 58 presenze in due anni realizza solamente otto reti sbagliando anche parecchi gol a dicembre 2017 ha anche l'occasione di prendersi una piccola rivincita contro la juventus che stava vincendo per 1 a 0 in casa ma la spreca così va sul pallone chic può andare chic verso la porta della juve chic chic cesdi chiude la porta della juventus e salva il risultato finora da lì si perde completamente ed è dura stabilire i motivi perché ovviamente saranno diversi che sia stata la problematica riguardo il trasferimento l'avere davanti a se un giocatore come gecko o essere messo fuori ruolo più volte il flop è clamoroso e fa male sia i tifosi che tra l'altro nello stesso anno hanno visto partire un certo salà sia le casse della società concludiamo con alcuni degli acquisti relativi alla stagione 2018 2019 che è sicuramente una delle annati peggiori per quanto riguarda il calcio mercato giallorosso il 14 agosto a circa 30 milioni di euro dal Siviglia arriva a zonzi centrocampista centrale che si contraddistingue per la lentezza e staticità guadagnandosi praticamente l'insufficienza ad ogni partita non si comprende ancora il motivo del suo acquisto e infatti una delle prime cose che ha fatto quest'anno il nuovo DS Petrarchi è stato cederlo in prestito al Galatasaray sperando non torni mai più a Roma altra spesa fole di Monci è quella fatta per Pastore arriva dal PSG dopo alcune stagioni non proprio esaltanti per più di 24 milioni di euro e fallisce fallisce clamorosamente 14 presenze 4 reti non dà l'impressione di essere il buon giocatore che è passato da Parigi difficile capire il suo acquisto dato che in panchina sedeva di Francesco che non stravedeva per i trequartisti si rifarà quest'anno chi lo sa ma i dubbi sulla sua qualità rimangono da aggiungere a questa categoria con riserva ci sono sicuramente anche Cristante e Kluivert che però hanno la possibilità di dimostrare qualcosa se rimarranno mentre chi non avrà minimamente altre occasioni è il tanto criticato Olsen il portiere che doveva sostituire un certo Allison arriva per un totale di circa 12 milioni di euro ed elude tutti lento goffo si mette subito in mostra per essere criticato. Finisce la stagione relegato in panchina da Ranieri che gli preferisce Mirante. Insomma so che fa male ma la società giallorossa è sicuramente tra quelle che più hanno commesso errori quando si è trattato di acquistare e vendere giocatori. Dopo tantissime delusioni dovute a queste scelte sbagliate tutta la tifoseria spera vivamente che il nuovo DS Petrarchi che ha fatto tra l'altro molto bene a Torino possa risollevare la squadra riportandola a competere per qualcosa di importante.